Buonasera a tutti dalle delizie del contadino. Questa sera volevo parlarvi di due frutti particolari, la granadilla e il mangostano o mangostin. Ma partiamo dal mangostano. Allora, si tratta di un frutto tropicale, eccolo qua, con elevate proprietà antiossidanti e molto ricco di acido folico, quindi molto indicato per le donne in gravidanza, e soprattutto ha un'alta concentrazione di xantoni. Sono delle sostanze in grado di contrastare l'invecchiamento della pelle e anche di inibire infezioni e virus, quindi molto indicato in questo periodo. Adesso andiamo a vedere come si presenta all'interno. E voilà. Dei semi bianchissimi. Adesso lo andiamo ad assaggiare. Da notare che i semi all'interno rispecchiano questa sorta di disegno che c'è al di sotto. Adesso vengono via facilmente. Vediamo un po'. Buonissimi, molto dolci, la consistenza è burrosa, il sapore è fresco, è molto gustoso. Adesso andiamo a vedere invece la granadilla. viene chiamato anche frutto del sole, è un frutto ricchissimo di antiossidanti, di tante vitamine come la vitamina B12, la vitamina C, è ottimo per l'organismo, abbassa il colesterolo nel sangue. Adesso andiamo a vedere come si presenta all'interno. molto bello e invitante. Andiamo ad assaggiare. Vediamo come si presenta al gusto. Molto buono, dissetante e dà il sapore particolare. Questi semini sono commestibili, ricoperti di questa gelatina, che è davvero, davvero ottima e fa bene all'intestino. Due frutti davvero squisiti e soprattutto benefici per il nostro organismo. Come sapete potete trovarli nel nostro punto vendita, l'edilizia del contadino, a Citraro Marina. Venite a trovarci quando volete. Grazie e buone feste!